gentili telespettatori buona giornata il movimento 5 stelle da una parte dice telemeloni telemeloni avete rotto i e poi sotto sotto si sta mettendo d'accordo per avere magari anche il tg3 avete capito come funziona la politica viaizzano contro telemeloni e poi sotto sotto si mettono d'accordo con la meloni per avere più spazio in rai quindi di facciata tele meloni a rotto i e poi conte si sente con la col governo allora che fate mi date il tg3 mi avete già dato rai parlamento radio 2 la direzione di rai cinema la presidenza rai com e tra un mese c'è il tg3 quindi conte ambisce al tg3 il tg3 che diventa grillino dove vi diranno apri il tg3 i grillini sono lo mejor lo mejor in spagnolo allora è così giuseppe conte onestà onestà uno dei motti del movimento 5 stelle diceva che diceva quando c'era carlo fuertes l'amministratore delegato di prima che con il pd che faceva incetta di direzioni quindi ai ai tempi quando c'era il governo dei migliori ve lo ricordate il governo dei migliori dove c'erano i migliori c'era di maio speranza il governo dei migliori ma migliori di che cosa e non lo so erano erano i migliori migliori di chi i migliori del loro condominio dove abitavano i migliori dell'isolato dove vivevano va bene il governo dei migliori pd e 5 stelle si litigavano la spartizione del potere in rai perché lì era 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 tele draghi tele sinistra c'era anche dentro però forza italia e lega e così prima litigavano pd e 5 stelle facevano incetta di direzioni la destra conquistò quattro testate non testate quelle così no quattro testate giornalistiche e adesso il nostro caro giuseppe conte senza farvi tutta la storia delle spartizioni che ci sono state punta al tgr allora nel frattempo il movimento 5 stelle ha conquistato la testata rai parlamento con giuseppe carboni radio 2 con simona sala la direzione cinema con adriano de maio e la presidenza di rai com con claudia mazzola e poi senza contare la vice direzione di roberto gueli al tgr per fare un esempio e le conduzioni televisive per alcuni beniamini a far sentire conti a proprio agio in questa rai contribuiscono anche i buoni rapporti intrecciati all'epoca di palazzo chigi con gianmarco chiocci che ora guida il tg1 e sì quindi tele meloni e poi si cerca di avere un telegiornale sotto banco tu mi dai un telegiornale io ti do le figurine di due calciatori della roma ce l'ho ce l'ho manca mi manca quella figurina lì bene mentre così pd e 5 stelle ufficialmente sbraitano contro tele meloni poi sotto sotto cercano di prendersi qualche telegiornale ma non avevano detto che era un'indecenza che c'era un'occupazione militare da parte del regime fratellista che non era mai successa una roba del genere e poi prendono il telefono allora il tgr me lo dai o no e dai e dai dammi il tg e dai dammi sto tgr dai ecco questa è la politica questa è la politica e poi vanno sotto la rai col microfono tele meloni hai rotto i va bene ecco bene 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 cioè bene insomma insomma infatti conte avete visto che è meno attacca di meno su tele meloni aveva detto qualcosa poi ha preferito il silenzio perché il buon giuseppe conte dice io zitto zitto cacchio cacchio non dico niente poi mi avvicino e prendo quello che riesco dalla rai vi ho già detto prima l'elenco delle cose che ha già il movimento 5 stelle rai parlamento rai 2 direzione cinema rai com e poi adesso il tgr adesso c'è tgr tg regionali no e adesso c'è magari il tg 3 da sottrarre al pd da fregarlo al pd a ma come tele meloni e il pd a il tg 3 se tu hai se tu intravedi tele meloni avresti dovuto abbandonare tutte le tue posizioni e rifugiarti in montagna per fare una guerra partigiana contro il regime autoritario in rai no o perlomeno ritirarti intangenziale come un gatto intangenziale a dire tele meloni ai rotto bene e sì ci sono in ballo il rai molte poltrone c'è la poltrona del presidente e ci sono tutte queste varie poltrone spartizione di tg quindi ufficialmente a tutti fa schifo la tv di stato occupata dalla politica dobbiamo farla indipendente la rai indipendente poi quando finiscono di dire ste cavolate dice allora mi dai il tgr ti do già il tg parlamento e vabbè dai dammi sto tgr in cambio ti ti do ti do rai yo yo eh rai yo yo non ti piace ti do rai yo yo più rai storia in cambio tu mi dai il tg 3 eh ne c'è no oltre rai yo yo e rai devi metterci anche rai quello che ti fa rivedere i programmi di una volta no ecco quindi avete capito davanti all'elettorato si strappano i capelli tele meloni e poi quando scendono dal palchetto vanno a telefonare allora il tg 3 è pronto o no quando è che mi dai sto tg 3 quindi la rai deve essere libera libera dalla politica allora sto rai 3 me lo dai o no eh oh 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 è chiaro come funziona ecco per chi ancora non è ben chiaro non so cosa farci eh dicono una cosa e poi ne fanno un'altra ok capite perché la rai è sempre sotto il controllo della politica e nessuno fa mai la legge per farla diventare autonoma e indipendente proprio perché a nessuno conviene avere una rai autonoma se no come fanno a farsi i telegiornali su misura non possono più poi grazie a tutti e arrivederci a presto